Dopo le dimissioni dell'assessore comunale Umberto Palermo del gruppo Canicatti Civica, il sindaco Ettore Di Ventura ha deciso di rivedere alcune deleghe assessoriali e nominare il nuovo esecutivo. A far parte della nuova squadra, Pietro Sabatino alle attività produttive ambiente, Angelo Messina alle risorse finanziarie e Rosa Maria Corbo allo sviluppo territoriale. Resta fuori Massimo Muratore. Confermati dal primo cittadino, Davide Lalicata allo sviluppo economico e sociale e Katia Farrauto alle risorse sportive e culturali. Un'aggiunta che sicuramente non garantisce una solida maggioranza in consiglio comunale. Sarebbero 10 i consiglieri comunali che sosterrebbero il progetto dell'amministrazione di Ventura. Questa cosa, dice il sindaco, non ci scoraggia. Lavoreremo e ci confronteremo con i consiglieri in aula. L'apertura è massima e di volta in volta porteremo le nostre idee programmatiche. Questa giunta, ha detto ancora, è in coerenza con l'impegno assunto con gli elettori. È formata da PD e dalla lista civica Uniti Canicattì. Il primo impegno del nuovo esecutivo sarà quello di preparare il bando per le aree artigianali.